buongiornissimo a tutti belli e brutti un bacione da michelone buona domenica e già che oggi è domenica oggi facciamo un video diverso dal solito però prima di cominciare iscrivetevi al canale ovviamente perché michelone è un grande che ho visto e visualizzate michelone ho visto che quando manca la juventus ragazzi si blocca tutto è visualizzazioni che calano proprio già questo un canalino piccolo che se io arrivo a 200 visualizzazione video già tanto ma proprio non arrivo neanche a 100 proprio quando c'è la juventus sono sotto 100 proprio il minimo almeno proprio una roba veramente agghiacciante agghiacciante e ma d'altronde ma anche a me fa lo stesso effetto è quando non c'è la juventus ragazzi guardo poco anch'io gli altri perché è fisiologico è fisiologico non ci sono notizia non c'è niente da dire non c'è niente da fare niente da guardare e le nazionali non le guarda un cazzo di nessuno anzi hanno tutte le palle girate perché bloccano e bloccano la nostra la squadra del cuore di tutti di tutti i tifosi e ti girano i coglioni e allora magari guardi altre cazzate vanno cazzeggiando allora dico oggi facciamo un video diverso dal solito anche perché me l'ha chiesto ragazzo c'è anche il finale juventus però all'inizio parliamo di parliamo di due cose questo video sarà diviso in tre parti la prima parte uno dei miei sport preferiti a parte il coso è l'arm wrestling braccio di ferro per oggi non parliamo di braccio di ferro anche se potrei parlare potremmo anche parlare di questo ma non è uno sport che seguite tanto voi già lo so ma vorrei parlare di pugilato di pugilato uno sport che negli ultimi anni non seguo neanche più tanto perché diciamo che i miti i veri miti sono non ci sono più si sono ritirati il mio più grande mito ovviamente l'ultimo più grande mito che secondo voi chi è stato mike tyson mike tyson che ha avuto una carriera prima di andare in galera di quelle stratosferiche che è diventato campione del mondo giovanissimo ma forse è stato quello che lo ha un po montato la testa ma lui è sempre stato una testa matta è sempre stata una testa matta lo è tuttora adesso anche se fa un po scena lo è tuttora adesso si è ha fatto tanto ammenda di cazzate che ha fatto quando è tornato fuori dalla galera ci ha riprovato ma ormai ma ormai ma ormai diciamo che c'è che e che quelli che erano sopra di lui erano erano più forti in quel momento lì dai i oli field poi quello che deve aver rosicchiato l'orecchia poi l'altro lì e Douglas Lewis e e poi ma ma adesso ho fatto un po un un coso generale ma non volevo parlare di questo della carriera di mike tyson che era secondo me secondo me dopo rocky marciano rocky marciano è il secondo più forte che c'è stato nella storia dopo arriva muhamed ali arriva george foreman arrivano tutti quelli che volete ma i primi due per me sono rocky marciano il primo che che non è mai stato che si è ritirato imbattuto il primo proprio che era aveva veramente quello lì incassava 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 e non lo buttavi giù è solo uno riuscito a metterlo una volta in ginocchio in ginocchio poi quando si è rialzato lo ha massacrato e poi c'è mike tyson ma mike tyson sapete la storia di mike tyson in galera per lui ha detto dopo si si è ha fatto anche un film dove 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 un film documentario dove ha spiegato tutto quanto lui ha detto che non l'ha violentata non l'ha violentata ha giurato ha giurato che lui non l'ha violentata ecco andare anche in galera per per una cosa che non hai fatto e ti rovina la carriera poi poi lo sappiamo tutti tutti i soldi che gli hanno ha rubato il suo ex manager lì quello coi capelli no in alto lì quando faccio il video non mi vengono i nomi sapete chi chi dico di chi parlo e poi insomma no ma quello che dove volevo arrivare era il sapete che adesso stanno facendo dei match degli ultracinquantenni ultracinquantenni di otto round soli di due minuti a round e la federazione si è lavata le mani e torna arrangiatevi noi vi lasciamo fare però non ci prendiamo nessuna responsabilità è una roba fatta così il primo match lo ha fatto un paio di anni fa contro un altro ex pugile che adesso non mi ricordo il nome un pugile non tanto noto e aveva fatto anche discretamente bene diciamo l'altro pugile proprio era sempre in difensiva si è tenuto lì e mike tyson si vede che aveva ancora l'ultima scintilla l'ultima scintilla di di ma l'ultimo l'ultimo cosa l'ultimo l'ultimo cosa che l'ha fatto l'altro giorno sono tutti incazzati neri perché c'è gente che si è alzata di notte gente che ha pagato gente per vedere quella merda quella merda che ha chi ha è combattuto contro questo jack paul che un pugile tecnicamente non eccelso ma è uno che picchia è uno che picchia non ha il pugno il pugno devastante di tyson però è uno veloce uno che che picchia e insomma si vede che questo che questo incontro è come che si sono messi d'accordo ascolta baci piano gli ha detto perché ho cinque o quasi 60 anni quasi non mi spaglio tyson non stava neanche in piedi tyson stai facendo di quelle figure di merda amico mio che è purtroppo il ciclo della vita anche a me dà fastidio ieri ne parlavo con mio amico che delle delle ero delle bag che abbiamo e della vecchiaia che ci stanno venendo fuori purtroppo anche a me dà fastidio invecchiare guardate che più di me penso che dà fastidio invecchiare ma anche anche a me è tra la spalla e i ginocchi e la caviglia poi con queste vene delle gambe che io sono soggetto quelle vene varie cose devono farmi la codopla adesso martedì mi faranno di nome mettere la schiuma dentro la vena di nuovo con la calza purtroppo la schiena poi della schiena non ne parliamo e le pastiglia purtroppo è un ciclo della vita che è così e ti devi ti devi anche se non vuoi adeguare e tu tyson hai 58 anni se tu prendi un pugno male e c'è vai sotto terra questo jack jack ball c'è dato non piano c'è non t'ha neanche sfiorato l'altro giorno perché se questo qua 30 secondi li faceva come come fa negli incontri soliti che poi vai a fare un incontro contro uno di 26 anni che ti asfalta che ti asfalta anche uno normale ti asfalta di 26 anni tu che ne hai 60 60 e lasciate perdere quello che vedete lì sull'allenamento di quando da quei quattro pugni che voi avete visto tyson se tenere 16 minuti il ritmo di 16 minuti ragazzi è una roba siamo a perdere insomma hai fatto una figura di merda tyson non rifare più quelle robe là almeno se visto che è una roba commerciale almeno almeno organizza fai piuttosto l'allenatore l'allenatore ripeto la vita purtroppo avanti per tutti tyson ti prego non rifare più sta roba qua perché fai di quelle figure di merda no per seconda parte del video parliamo di donald trump che gli faccio i complimenti per di nuovo per la sua rie elezioni io sono contento perché è una persona che mi piace adesso hanno fatto anche un film su di lui andatelo a vedere io l'ho appena tirato giù ragazzi è è lui da giovane che vuole già diventare padrone di padrone immobiliare più grande del mondo è veramente tosto il film bellissimo bellissimo andatelo a vedere donald trump che sono che sono contento perché ha devastato quelli della i democratici lì quelli ma voi sapete che io guardo e omega click è un canale fantastico che ti tiene che parla di ufo di 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 alieni che parla di 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 queste cose qua politiche di di parla di tutte le robe più più uno di dei magheggi fatti no e parlava di tutti quelli che hanno dato contro a trump di tutti i processi che hanno avuto tra li ha presi uno per uno indagato questo mega click e tutti quanti quelli che hanno dato contro trump quelle erano tutti foraggiati dai democratici dall'altra parte quelli di cui competi ma giudici democratici e manager democratici e donatori democratici e tutti quelli che era che sono che sono della parte di democratici di quanti hanno tentato di fargli le scarpe a bloccarli la carriera a questo a questo qua e hanno tentato di 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 processarlo tramite impeachment non si sa quante volte insomma hanno cercato di fargli il culo a questo ma che non è un santo è ve lo dico subito che non è un santo ma è sempre migliore di quegli altri sporcaccioni di democratici che abbiamo visto in questi quattro anni cosa hanno fatto nel mondo intero no nel mondo intero questi sarebbero i democratici democrazia democratici democrazia abbiamo visto cosa hanno fatto io sono contento che è tornato su lui e ripeto perché lui io penso che tra lui e clinton sono stati gli unici presidenti in cui l'america era sempre stata tranquilla clinton con il suo sassofono lì e lui con le sue è stato l'unico presidente ad andare in corea era amico del coreano era amico di putin era amico di gian ping la quello di del ging ping la quello della era tutto tranquillo però ai americani no vabbè perché loro devono vendere guerra devono vendere bombe allora l'hanno detronizzato apposta per mettere su quell'altro no adesso meno male che di gran carriera è tornato su lui e questo qui ci va duro ha detto che gliela farà pagare a tutti quelli che gli hanno che gli hanno fatto del male e questo qui lo fa ha fatto un discorso epocale grande donald trump e poi mamma mia ho visto dei cosi allora la prima volta che è stato eletto c'è gente che si è ammazzata pensate che fuori di testa che la gente adesso che 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 è stato rieletto dovevate vedere le donne le americane fuori di testa si sono tagliati i cappelli movimenti di donne contro gli uomini ma una roba gli americani non sono mica bolla è non sono a bolla non sono a bolla anche le donne hanno votato trump il 40 per cento dei votanti che hanno votato tra per donne donne e 60 uomini quindi non è che hanno votato solo uomini trump però gli americani sono fatti così cosa che ci vuoi fare sono sono strani io sono contento per trampa almeno mette posto le cose non ci saranno guerre con lui sicuramente a meno che speriamo che non gli facciano la pelle perché tre tentativi e tre tentativi sono dati a vuoto con lui hanno hanno tentato di ucciderlo tre volte e non ci sono riusciti donald trump tieni duro sei un grande vai avanti così grande per ultimo parliamo della nostra juventus perché 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 allora copp maier show entra in olanda segna il ragazzo o quelli che parlano di copp maier dategli tempo la juventus perché sta crescendo di copp maier poi a me danno danno fastidio a quelli che vanno in nazionale e parlano e parlano perché non parli quando sei nel club perché non parli con l'allenatore non parli con la dirigenza invece di andare in nazionale a sfogarti questo vlao vice che va in nazionale si sfoga e gli dice è il segno poco perché ho troppi compiti difensivi e si sfoga lì vai dall'allenatore gli dici ascolta e fammi giocare in un'altra maniera perché no 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 va spiegati io veramente li odio quelli che vanno in nazionale a sfogarsi a rompere i coglioni in nazionale veramente veramente questo vlao se non va vlao vice non vai neanche in nazionale non segni non segni neanche in nazionale forse sei stato un fuoco di paglia un fuoco di paglia sei uno che ogni tanto fa qualche gol veramente veramente impressionante perché qui qui colpi colpetti da campione anche ce li hai ma non sei da prima punta per la juventus non puoi fare l'unica prima è solo la punta della juventus perché non non c'è carisma non c'è carisma e non c'è neanche non hai neanche carattere perché uno che si incazza dopo che sbaglia un gol e poi fa le partite tutte di merda vuol dire che non ha carattere non ha carattere quindi io se fossi nella juventus cercherei di rinnovarli il contratto e poi lo vendo lo vendo lo vendo vendo anche quell'altro perché non sta neanche in piedi mili che li vendo tutti e due e a fine stagione mi prendo due due attaccanti coi contro coglioni perché non si può andare avanti così con uno che sempre rotto non c'è e quell'altro che segna singhiozzo dai ragazzi segna singhiozzo tanto ormai sono pochi che lo difendono è questo qua ormai anch'io ho cercato sempre di stare nella via di mezzo ma se neanche il nazionale non segna fa cagare anche il nazionale quindi non è che è sempre colpa della juventus perché se fa schifo con allegri e fa schifo anche con motta e fa schifo anche il nazionale c'è allora qualcosa c'è no qualcosa c'è forse ha dato troppo quando era giovane alla fiorentina che si mangiava anche lì un fracco di gole bevo buona colazione a tutti a proposito poi devi anche anche il nuovo difensore sotto controllo di giuntoli le sono spuntato un altro nome io vi allora io vi dico i nomi e io non le so le cose io dico quello che gira quello che gira io sono convinto che la juventus sta sta contattando a scrignar questo ve lo posso dare per sicuro che la juventus sta valutando molto seriamente scrignar vedere se è se se la sente se è in grado se è se è tonico fisicamente per perché c'è da spaccare i culi eh se vieni alla juventus scrignar c'è da spaccare i culi se te la senti se sei sano ok se no rimani là eh adesso lasciamo perdere interista non interista ti brucia il culo di qua di là io sto parlando del ragazzo io con scrignar non ce l'ho mai avuta anzi e per me è stato un ottimo difensore non so se lo è ancora io non lo so il psg che cazzo che cazzo c'è che non va che lì quando vanno lì fanno tutti schifo e quindi se te la senti scrignar ok se no rimani lì e saprà giunto di quello che deve fare ah non sa non ci sarà mica solo scrignar io io sarei contento se venisse qua per vedere il bruciore di culo di quelli là intanto ma anche perché abbiamo una riserva perché Danilo ragazzi Danilo non puoi far filamento su Danilo forse magari un paio di anni fa era fattibile adesso no perché guardate quando l'età passa te ne accorgi da un giorno all'altro è come un come dire un 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 coso che scatta e da un giorno all'altro ti accorgi che passi dai 40 ai 50 non è che ti accorgi gradualmente da un giorno all'altro quindi questo qua già l'altro anno non era più il Danilo già l'altro anno e cominciavano veramente gli acciacchi quest'anno c'ha gli acciacchi e in più non ti hanno più tenuta mi dispiace per il ragazzo ripeto che ringrazierò sempre perché nel marasma che c'è stato nella Juventus negli ultimi anni lui è stato uno di pochi che si è salvati che si è salvato uno veramente di pochi io Danilo lo ringrazierò per sempre di fatti vedete che non gli do mai tanto contro a lui perché cosa vuoi dare contro a Danilo a Danilo perché col sua mediocrità perché lui è un difensore non è proprio eccesso un difensore medio un difensore medio ha fatto anche troppo la Juventus credetemi ha fatto anche troppo lui è uno che doveva stare in panchina non fare il titolare nelle vecchie Juventus lui sarebbe stato un panchinaro non un titolare credetemi a questo e ultima che mi dispiacerebbe per far mercato questo è un bangula difatti lui ha detto che non vorrebbe andare via dalla Juventus che gli dispiace io non so questo giocatore è stato messo all'inizio pareva chissà che roba poi anche questo qui è cominciato a andare nell'oblio io non so come ragiona Tiago Motta si ho capito ma adesso qui non ho neanche tempo di parlarne tanto però ne parleremo sul prossimo video però io in Bangula ho paura che ci pentiamo perché sui giovani qualche giovane che abbiamo che abbiamo lasciato andare ci siamo pentiti un po' tipo i Dragusin qualche giocatore che è andato anche già in The Winter sta facendo anche bene poi mi ricordo anche lo stesso sull'Equa noi l'abbiamo mandato lì al Frosinone Baranecea sono giocatori che alla fine poi vanno in altre squadre magari qualcuno canna ma non è perché fa cagare lui ma perché fa cagare la squadra dove l'abbiamo andato la Roma vedete Uisen non fa cagare perché è scarso ma perché è la Roma che fa cagare proprio adesso vedremo con Ranieri se riuscirà a riportare un po' sulla Roma e a farla e a farla un po' macinare visto che adesso mi pare che la ripresa c'è anche mi pare un Roma a Napoli se non dico cagate comunque chiudo il primo video di giornata il primo video di giornata e il secondo parleremo della maniera di lavorare di Tiago Motta che è interessante questo che ci pensavo ieri non sarà un video tanto lungo comunque ciao ragazzi ci vediamo alla prossima bacione a tutti i belli e brutti fatti bravi a tutti ieri Grazie.